Bentornati su CuperTV, oggi è martedì 8 gennaio 2019. Incominciamo subito facendo un po' di pratica con un complex dove faremo tre o cinque set di quattro toss to bar, tre pull up, due chest to bar pull up e un bar muscle up. A seguire il WOD che sarà un 5 round a ogni quattro minuti quindi un e4 MOM fatto con 12 bar muscle up, 15 kettlebell string e 18 oppure 12 calories bike. Come al solito il resto è tutto sulla grafica, pesi scalature, ci vediamo domani per un altro WOD.